Come noi abbiamo ribadito in tutto questo periodo, noi siamo disponibili per ogni soluzione che dia stabilità al Paese, che si colloca in una cornice europea e che abbia un'attenzione per le autonomie speciali e per le ignoranze linguistiche. Per i primi due punti, ovviamente con il Professor Draghi non ci sono dubbi, per il terzo punto abbiamo illustrato al Presidente incaricato le nostre questioni più importanti, abbiamo trovato la massima attenzione, anche che sapeva tanto dei nostri territori, e devo dire che è stato un primo incontro molto positivo. Tra l'altro, il Presidente incaricato in Germania ha la fama di essere più tedesco dei tedeschi, così con i sud tirolesi non può che avere un feeling particolare. Noi adesso ci riuniremo nell'ambito del nostro partito e nel gruppo per le autonomie per definire la nostra posizione. Grazie.